Ciao ragazzi e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video! La storia che vi voglio raccontare oggi l'ho sempre trovata molto interessante. Io ho visto un film da cui è stato ispirato il protagonista nel caso di oggi e consiglio anche a voi di recuperarlo, si chiama Split. È un film girato da Dioda Shyamalan e interpretato da un fantastico James McIvory. Ho anche letto che era previsto per il 2020 un film ispirato proprio alla storia del protagonista di questo caso. Dovrebbe interpretarlo Leonardo DiCaprio però, ehi, il 2020 è passato, siamo nel 2021 e quindi ahimè non so se questo film mai uscirà o ancora uscirà in Italia. Lucarelli direbbe che questa storia, questo caso, se l'avesse raccontato uno scrittore o se l'avessimo vista in un film avremmo pensato che sì, magari l'idea regge, ma è un po' esagerata. Vi avviso che raccontare questo caso non è assolutamente facile perché io non sono una psicologa però ho provato a fare del mio meglio per essere il più chiara possibile. Ovviamente se sapete qualcosa di diverso o siete esperti sul tema correggetemi pure se sbaglio qui sotto nei commenti. Questa storia quindi, che vorrebbe pure esagerata, è una storia vera. È accaduta realmente ed oggi parliamo di Billy Milligan. Billy è un ragazzo che soffre di disturbo dissociativo dell'identità ed ospita dentro di sé ben 24 personalità, tutte completamente differenti l'una dall'altra. Ma come al solito partiamo dall'inizio. Billy Milligan nasce nel 1955 a Miami Beach. Sua madre Dorothy ha da poco lasciato suo primo marito e si è risposata con Johnny Morrison, un comico con problemi d'alcol e gioco d'azzardo. Billy è un bambino normale fino a quando compie 4 anni. È il 1959 quando suo padre si toglie la vita. Billy e sua madre di conseguenza si trasferiscono a Lancaster. Ed è da questo momento che Billy inizia a provare i primi segni di dissociazione. È in questo preciso momento che il suo sé decide di frammentarsi per la sua salvezza. Quindi da questo momento in avanti ogni esperienza traumatica viene relegata ad un comportamento mentale differente. Il sé di Billy deve difendersi, deve distanziarsi da un trauma incontenibile. È così che inizia a disgregarsi col fine di proteggere il suo mondo interno, seppur in forma scissa. Già per ora questa storia è alquanto sconcertante, ma è solo l'inizio. Infatti il sé di Billy va in frantumi. Nel 1963, quando la madre sposa Chalmer Milligan, un uomo disturbato, violento, che inizia a fare violenza intima su Billy. È così che in Billy Milligan si sviluppano diverse personalità. Arrivano Arthur, Regen, Allen, Tommy, David, Kristen, Christopher, Adalana e molti altri. Tutte queste singole personalità di Billy non si limitano a cedersi il posto a vicenda e quindi ad emergere dal ragazzo. Queste personalità crescono letteralmente con lui. Anno dopo anno maturano progressivamente e peraltro iniziano anche a interagire tra di loro. Però Billy non ha coscienza di nessuna di esse. Avverte solo dei vuoti di memoria, sente delle voci molto lontane, ma rimane inconsapevole delle azioni compiute dalle altre personalità. Billy cresce, va a scuola, alla Lancaster High School, Ma a 14 anni viene sospeso perché viene spesso trovato a vagare in stato di trance per la scuola e per la città. A 15 anni tramite la scuola, Billy viene ricoverato per la prima volta al Columbus State Children's Hospital, un ospedale psichiatrico dove il dottor Harold T. Brown gli diagnostica una nevrosi isterica con aspetti passivo-aggressivi. Passano appena tre mesi e Billy viene dimesso sotto forti pressioni di sua madre. Il punto è che Billy a questo punto è in un continuo stato confuzionale. Le personalità prendono spesso il suo posto. Di conseguenza il ragazzo vive davvero brevi scorci di lucidità. Per tutto il resto del tempo rimane altamente disorientato. Infatti poco tempo dopo Billy tenta di togliersi la vita, ha 16 anni, e sale sul tetto della scuola col fine di buttarsi di sotto. Ma in quell'occasione dopo emerge una personalità, Regen. Regen ha 23 anni ed è definito il guardiano dell'odio. È jugoslavo, parla inglese, ma ha uno spiccato accento slavo. Inoltre scrive, legge e parla il serbo croato. Regen è un'autorità in fatto di armi e munizioni e, tra l'altro, è anche esperto di karate. Ha una forza straordinaria derivante dalla capacità di controllare il flusso di adrenalina. Prende il controllo della coscienza nei luoghi più pericolosi. Ecco perché Regen prende il controllo della coscienza di Billy. È apparso in un momento in cui Billy è in un luogo e in una situazione pericolosa. Così, il servo alla vita. Ed è, a mio parere, in questo momento che la storia prende una forma ancora più strana e particolare. Perché da quel giorno dei suoi 16 anni, Billy viene tenuto costantemente in stato di incoscienza dalle sue personalità dominanti che, ovviamente, gli impediscono di tentare di togliersi nuovamente la vita. In realtà, la vita sociale di Billy viene vissuta dalle varie personalità che si manifestano alternandosi a seconda della situazione da affrontare. Arriva Arthur, la prima personalità di Billy, che ha 22 anni. È, a quanto capito, la personalità principale, la più importante. È inglese, razionale, freddo. Inoltre, è stato il primo delle personalità di Billy ad aver scoperto le altre personalità di Billy. Infatti, Arthur domina nei luoghi sicuri e decide quale membro della famiglia, o meglio, quale membro della personalità di Billy, può uscire e prendere il controllo della coscienza. Poi c'è Allen, ha 18 anni ed è un vero artista del raggiro. Un vero e proprio manipolatore. Allen è quello che parla più spesso con gli esseri umani esterni e ne ha un rapporto molto stretto con la madre di Billy. Tommy ha 16 anni ed è un artista della fuga. Tommy è spesso confuso con Allen, ma Tommy è decisamente un atteggiamento più bellicoso e antisociale. Arriva poi Danny, che ha 14 anni ed è la personalità spaventata, a paura soprattutto degli uomini. Poi arriva David, che ha 8 anni ed è chiamato il guardiano del dolore o l'empatico. Questa personalità assorbe il dolore e la sofferenza di tutte le altre personalità. David è molto sensibile e intuitivo, però ha una capacità di concentrazione limitata. Risulta sempre molto confuso. Poi arriva Kristen, che è una bambina di 3 anni ed è anche chiamata la bambina dell'angolo. È sempre stata fortemente immarcinata. È inglese, sa leggere e disegnare, ma soffre di dislessia. Christopher ha 13 anni, è il fratello di Christian, ma è molto tormentato. Infine c'è Adelana, una donna di 19 anni, lesbica, timida, solitaria ed introversa. Adelana ha gli occhi che talvolta vagano da una parte all'altra, per un problema di nystagmo. Il nystagmo si riferisce a movimenti oscillatori, ritmici e involontari dei bulbi oculari. Dicono che Adelana abbia gli occhi ballerini. In Billy ci sono anche altre personalità, che sono fortemente negative. In tutto, Billy Milligan ne conta 24 e queste 10 che vi ha nominato, possiamo definirle le centrali, quindi quelle che appaiono con più frequenza. Nel 1972, Billy viene definitivamente espulso dalle superiori. Quindi a 17 anni, prova e riesce ad arruolarsi nella marina militare statunitense, dove viene nominato sotto ufficiale. Passa meno di un mese quando tutti si rendono conto della sua chiara condizione mentale instabile. Anche in quel caso le personalità di Billy si danno il cambio, e quindi il ragazzo passa da un estremo all'altro. Durante questo periodo emergono anche delle personalità negative di Billy, che rispondono male a chiunque, vogliono solo poltrire e farsi i cavoli loro. Se ne fregano alquanto dei doveri di Billy. Loro fanno quello che gli va, e quindi Billy viene congedato. Arriviamo all'8 luglio del 1972, e Billy viene arrestato per aver sequestrato, fatto violenza, e aggredito con una pistola, due prostituse. Viene archiviata l'accusa di sequestro, ma viene riconosciuto colpevole per tutti gli altri capi d'accusa. E quindi viene affidato al campo giovanile di Zansville, in Ohio, dove rimane per appena 4 mesi. Arriva il 21 gennaio del 1975, quando Billy Milligan viene nuovamente arrestato con l'accusa di aver rubato sostanze in farmacia. A questa accusa se ne aggiunge un'altra. Aggressione e rapina a mano armata, a danno di diverse vittime nelle piazzole di sosta, nelle contee di Farfield e Hawking, sempre in Ohio. Il 25 marzo dello stesso anno, Billy si dichiara colpevole di rapina e rapina aggravata. Subisce una condanna che può andare dai 2 ai 5 anni per la rapina in farmacia. Il 9 luglio, Billy Milligan viene trasferito all'istituto correttivo di Lebanon, a Cincinnati, per poi essere rilasciato sulla parola il 26 aprile del 1977, in libertà condizionale. Arriva il 30 ottobre del 1977 e Billy viene nuovamente arrestato con l'accusa di aver rapito, rapinato e fatto violenza in piena mattina a tre studentesse della Ohio State University. Le vittime, in primo luogo, riconoscono Billy da una foto segnaletica, poi, in un secondo momento, da un confronto all'americana. Viene anche identificato per delle impronte lasciate sulla portiera dell'auto di una ragazza. Billy viene quindi incarcerato in attesa di processo. Peccato che alla difesa si renda conto immediatamente che in Billy ci sia qualcosa che non vada. Ha dei comportamenti strani. Ad esempio, ogni volta che viene interrogato il ragazzo, pare essere sempre una persona totalmente diversa da quella precedente. Una volta pare fragile, insicuro e sul loro di una vera e propria crisi di pianto. Mentre la volta successiva si dimostra arrogante, risoluto, apatico. Inizialmente tutti credono che Billy sia un bravissimo attore, ma quando diventa evidente per la difesa che la situazione mentale del ragazzo risulta problematica, chiedono immediatamente che venga sottoposto ad una perizia psichiatrica. Il dottor Willis C. D. Scroll, uno psichiatra clinico, gli diagnostica una schizofrenia acusa. E in effetti la schizofrenia, quanto ne so, è un disturbo da alterazione del pensiero, del comportamento e dell'affettività. Si manifesta con deliri, allucinazioni, eloqui e comportamenti disorganizzati, ancora comportamento catatonico. E in effetti, in un primo momento, Billy può davvero apparire come uno schizofrenico. I deliri avvengono quando c'è il cambio di personalità. Le varie personalità interagiscono in modo diverso e qui si aggiungono eloqui e comportamenti disorganizzati. Non manca neanche il comportamento catatonico, a dirla tutta. Spesso Billy appare totalmente insensibile a qualsiasi stimolo esterno. Il fatto è che mentre Billy è in prigione, fa accadere delle cose davvero assurde. Questa, a tratti, potrebbe davvero sembrare una storia paranormale, ma non lo è. Ad esempio, nel momento dell'arresto, mentre lo portano in prigione, Billy riesce a sfilarsi le manette. Senza sbacciarle, se le sfila semplicemente. Ma appena gli viene chiesto come sei riuscito a farlo, lui risponde che non lo ricorda affatto. Durante la notte passata in prigione, Billy riesce a rompere la tazza del water a mani nude. Poi, con un coccio di ceramica, tenta di togliersi la vita. Dopo questa crisi, gli viene messa una camicia di forza, in modo che non possa far male né a se stesso né agli altri. Inoltre, decidono di metterlo in una cella di isolamento. Quando lo vanno a controllare circa 20 minuti dopo, trovano Billy che si è liberato dalla camicia di forza e la sta usando come cuscino per dormire. In sto choc, Billy dice una cosa e la ripete a macchina, sempre la stessa cosa. Non so come abbia potuto fare una cosa del genere, non ne ho idea, perché neanche io me lo ricordo. Inizialmente, come vi dicevo, la difesa non ha preso seriamente i comportamenti di Billy. Fino a quando non iniziano a mettere insieme tutti questi avvenimenti e capiscono che effettivamente qualcosa che non va c'è e come. Billy è alto 1,80 m ma non ha la forza per spaccare un water a mani nude né dovrebbe avere la capacità di liberarsi da una camicia di forza. Le manette, a mio parere, possono essere sfilate se il soggetto è abbastanza bravo e astuto da posizionare le mani in un certo modo per riuscire a sfilarle. Billy, di conseguenza il 16 marzo del 1978, viene trasferito all'ospedale psichiatrico Harding Hospital che più precisamente si trova a Worthington, in Ohio. Per essere giudicato, idoneo al processo. All'Harding Hospital, Billy, ci rimane per ben sette mesi. Si affaccia ovviamente con diversi medici e la prima psicologa ad avere a che fare con lui è Dorothy Turner. La donna è minuta, ha un'espressione materna ed è molto timida, quasi spaventata a dirla tutta. La donna si fa coraggio, si avvicina a Billy, si siede e nota che sulla faccia del ragazzo c'è stupore. Poi, ecco che la psicologa nota anche il suo sguardo, lo sguardo di un bambino spaventato. Eppure davanti a lei c'è un adulto, giovane, di bell'aspetto, alto 1,80m. La prima cosa che chiede Dorothy Turner, la psicologa, è Signor Milligan, sono Dorothy Turner e sono qui per farle delle domande. Dove abita attualmente? Billy si guarda attorno, ha lo sguardo confuso, poi si ferma e dice Qui, io abito qui. Dorothy Turner a questo punto continua a chiedergli quale sia il numero di previdenza sociale. Billy aggrotta le sopracciglia, inizia a fissare il pavimento con uno sguardo vuoto, poi scrolla le spalle e dice Non lo so. La donna quindi legge tra i suoi appunti e legge il numero di previdenza sociale di Billy Milligan. E Billy risponde Ma quello non è il mio numero, deve essere per forza quello di Billy. Già in questo caso, durante la prima seduta, una personalità si è palesata, dicendo chiaramente di non essere Billy Milligan. La Turner infatti alza lo sguardo e dice Beh, e lei non è Billy? Lui risponde con tutta tranquillità No, io sono David. La Turner quindi chiede E Billy dov'è? David, una delle personalità di Billy, risponde Billy sta dormendo e non può svegliarlo perché altrimenti si ucciderà. A parlare con la Turner è David, ossia il guardiano del dolore, l'empatico, la personalità che emerge ogni volta che qualcuno si fa male. È lui che deve assorbire il dolore degli altri. David spiega alla Turner che loro, la mente di Billy, se così la vogliamo chiamare, la identificano come il posto. Il posto è il luogo in cui tutte le personalità di Billy restano. È tutto buio, ma c'è un fascio di luce bianca. Quando una personalità entra nel fascio della luce bianca, prende coscienza ed emerge nel corpo di Billy. Billy, che in realtà non emerge da anni e anni, resta sul posto a dormire perché ha molti istinti suicidi. Billy, ogni volta che riemerge, appare confuso. In quanto non ha la minima idea di che cosa abbia fatto, del motivo per cui si trova lì e di cosa stesse facendo in precedenza. Cade sempre nel panico e quindi deve essere sostituito molto, molto velocemente. La dottoressa Turner, in ogni caso, spiega la situazione. Il ragazzo entra in contatto con tanti altri medici e la diagnosi è chiara. Disturbo da personalità multipla. Questo permette ai due avvocati della difesa di costruire l'intera difesa di Billy Milligan sull'infermità mentale. Il fine dei medici è quello di avere un Billy integrato. Quindi vogliono provare a fondere le varie personalità per fare in modo che Billy rimanga vigile, sveglio. Non è di certo semplice perché Billy non è cosciente da anni e quindi quando riprende contatto col mondo si sente incredibilmente sfaventato. Gli psichiatri iniziano quel provare a far emergere solo la personalità di Billy, ma purtroppo appena il discorso tocca la violenza subita dal padre, il ragazzo si chiude totalmente in se stesso. Le varie coscienze o personalità di Billy iniziano ad emergere per interagire e parlare con lui, perché Billy non sa assolutamente la verità. Non è consapevole di avere altre personalità dentro di sé che prendono il sopravvento ed essendo parecchie codeste personalità, Billy, piano piano, deve prendere confidenza e parlare con tutti. Solo in questo modo è possibile pensare di stabilire una fusione tra le varie personalità. Billy inoltre deve stare sveglio, vigile, in grado di affrontare la vita. Non può rinternarsi in se stesso nel momento in cui deve affrontare delle difficoltà. E questa situazione è davvero davvero complicata. E infatti in Billy non viene assolutamente concretizzata una fusione per intero. Arthur e Regen restano le due personalità non del tutto fuse con lui. E in effetti queste due personalità sono anche quelle più forti. Intanto il caso di Billy Milligan diventa mediatico e tutti parlano delle sue personalità. La terapia di Billy inizialmente pare funzionare, viene giudicato pronto per il processo. Di conseguenza viene portato davanti alla corte. Il processo senza giuria ha inizio il 4 dicembre del 1978. E la pressione è esercitata su ragazze così forte che due personalità si dissociano totalmente durante il processo. Ossia Regen ed Arthur. Come vi ho detto queste due personalità non si sono mai del tutto fuse con lui. Quindi durante il processo prendono il posto di Billy parecchie volte. Dopo aver ascoltato le testimonianze verbale e le varie relazioni psichiatriche, Billy Milligan viene giudicato non colpevole per infarmenta mentale. Infatti il giudice pur riconoscendo la colpevolezza dell'imputato per i reati di cui è accusato, conclude che all'epoca dei fatti non era nel pieno possesso delle facoltà mentali. Di conseguenza non responsabile delle proprie azioni. Billy quindi viene trasferito in un ospedale psichiatrico ad Athens per ricevere le adeguate terapie stabilite dal dottor David Cole. Il dottor David Cole è un esperto di personalità multiple. Ne agisite parecchie nella sua carriera. Ecco perché Billy Milligan viene affidato alle secure. E' proprio in questo ospedale psichiatrico che Billy inizia la sua vera riabilitazione. Tutte le personalità si dimostrano decise e collaborative a riabilitarlo per fargli riacquistare credito presso la società. Durante la permanenza in questo ospedale psichiatrico emergono anche altre 13 personalità che vengono definite gli indesiderabili. Normalmente gli indesiderabili sono tenuti in silenzio dalle personalità dominanti. Ora però queste personalità dominanti non sono più divise da Billy. Quindi queste ennesime 13 personalità definite indesiderabili sono pronte per uscire allo scoperto. La personalità che alla fine emerge è quella più completa. Quella che ricorda tutto. Si chiama il maestro. Il maestro ha potuto far luce sul passato di Billy. E cosa esattamente sia stata la causa della sua dissociazione? Ebbene, Billy ha 9 anni. E viene guardato un po' troppo ossessivamente da Chalmer, il suo patrigno. L'uomo è molto autoritario, severo, urla spesso. Pretende il massimo silenzio mentre sono tutti seduti a tavola. Non deve volare una mosca. Non è possibile ridere. L'uomo inoltre pretende che per salare qualsiasi cosa bisogna fare dei movimenti circolari in senso orario. Se Billy per caso, sbagliando, urta la sagliera e la fa cadere, Chalmer gli urla in faccia, gli dice che è un incompetente. E che non sa fare assolutamente nulla di buono. A questo punto Billy inizia ad avere seriamente paura di lui. Però inizia anche a covare una rabbia per il suo patrigno. In quanto l'uomo, quando beve molto e si ubriaca, mette spesso le mani addosso a sua madre. E lui, poverino, che ha solo 9 anni, si sente fortemente impotente. Billy, di conseguenza, si chiude in se stesso. Non capisce la rigidità, l'ostilità e le punizioni inferte dal suo patrigno. Billy ricorda addirittura che una volta, mentre Chalmer, il suo patrigno, gli urlava addosso, lui aveva semplicemente osato guardarlo. Billy aveva solo alzato lo sguardo per osservarlo negli occhi. E Chalmer aveva guardato Billy dicendo, abbassa quegli occhi quando ti parlo. E in effetti, Billy ha dei veri e propri problemi a osservare negli occhi le persone. Non riesce a mantenere lo sguardo e anche le sue personalità. Per quanto siano forti, spesso distoglievano lo sguardo per primi. Fin da piccolo, Billy perde il tempo e la personalità che emerge è sempre quella di Kristen. Lei è una bambina piccola, ama disegnare, ma molto spesso viene anche lei terrorizzata dai patrigni di Billy. Per Billy queste situazioni sono normali. Immagina che a tutti capita di chiudere gli occhi e di risvegliarsi da qualche altra parte, senza alcun ricordo di come si è arrivato lì. La coscienza di Billy si disintegra totalmente quando, una domenica di aprile, Billy viene guardato dal suo patrigno in modo troppo ossessivo. Il ragazzino quindi prende una rivista e inizia a sfogliarla, ma appena alza lo sguardo, ecco che vede ancora il suo patrigno, che lo sta fissando. Billy quindi decide di cambiare posto, si siede sul divano, si mette composto, esattamente come pretende il suo patrigno. Chalmer non gli leva gli occhi di dosso. Billy a questo punto si alza e si arriva sul portico. Ed anche in questo caso, quando rialza lo sguardo, trova il patrigno che lo fissa là dentro casa da una finestra. Billy a questo punto inizia ad avere davvero paura. Cerca di sottrarsi ai suoi occhi, fa il giro della casa fino ad arrivare al giardino. Ma anche in quel caso vede Chalmer che lo fissa dalla finestra principale. Billy a questo punto inizia seriamente a tremare di paura perché non capisce cosa abbia fatto di male. La sera passa tranquilla, anche se Billy non riesce tanto a riposare serenamente quella notte. La mattina seguente, Chalmer, ancora prima della colazione, annuncia che lui e Billy si sarebbero diretti in una fattoria di sua proprietà a Bremen, in quanto, secondo il patrigno di Billy, ci sono un sacco di cose da fare. Chalmer quindi guida, va verso la fattoria con la macchina, ma prende una strada secondaria, una strada più lunga e non dice assolutamente nulla durante il viaggio. Billy non sa assolutamente cosa aspettarsi. Una volta arrivato in fattoria, apre il garage, mette il trattore nel granaio e poi fa violenza su Billy. Più e più volte. Questa situazione va avanti per un anno. Billy non dice nulla di queste violenze perché il patrigno lo minaccia quotidianamente di morte. Gli dice con esattezza che l'avrebbe sepolto nel granaio, per poi dire a sua madre che semplicemente era fuggito. È qui, in questo momento, che la sua mente, le sue emozioni e la sua anima si disintegrano esattamente in 24 parti. A questo punto, Chalmer inizia anche a peggiorare nei confronti della madre di Billy, Dorothy. La picchia sempre più spesso, anche senza aver bevuto. Crescendo per Billy, ovviamente, il rapporto con la scuola diventa insidioso. Il ragazzo spesso scivola via anche durante le verifiche. E quindi a completare magari i compiti, le verifiche, non è lui, ma qualche altra sua personalità. E quindi ecco che quando si risveglia si ritrova il compito di matematica fatto alla perfezione. Ma non è stato fatto da lui. Billy è un ragazzo molto sensibile, ama molto i fiori e le poesie. Inoltre, gli piace parecchio aiutare sua madre per fare delle faccende domestiche. Però Chalmer lo chiama femminuccia. Quindi Billy ben presto smette di aiutare sua madre. Billy smette realmente di fare ciò che lo rende felice. Le poesie le scrive ad Alana ed aiuta anche a sistemare casa in gran segreto. Tommy invece gioca con i motori e delle apparecchiature elettroniche. Ma inizia anche a studiare delle strategie di fuga. Tommy inizia a leggere libri di grandi illusionisti come Udini. Ma rimane deluso quando scopre che alcune delle loro incredibili fughe erano solo dei trucchi. Con gli anni Tommy studia i vari nodi per capire quale sia il modo più facile per allentare le corde. Poi ecco che legge di alcune trappole usate per catturare le scimmie in Africa. Gli animali provavano a prendere del cibo da delle fessure molto molto strette. E poi non riuscivano più a sfilare i polsi, rimanevano incastrati. Questo porta Tommy a riflettere sulla struttura della mano umana. Inizia quindi a studiare la struttura ossea della mano su un'enciclopedia. Ed è così che arriva a scoprire come liberarsi le mani e i polsi. Se fosse riuscito a comprimere le mani sino a farle diventare più strette del polso avrebbe potuto liberarsi sempre. Tommy quindi si misura le mani, i polsi ed inizia a compiere una serie di esercizi comprimendo e allineando osse e articolazioni. Quando Tommy finalmente riesce a comprimere le mani rendendole più piccole dei polsi raggiunge una consapevolezza. Niente l'avrebbe tenuto imbrigliato o incatenato. Il secondo passo per Tommy è riuscire ad uscire da stanze chiusa chiave. Quindi quando la mamma di Billy è fuori di casa si arma di cacciavite e inizia a svitare tutte le serrature della casa col fine di studiarne il meccanismo. Poi prima che la madre di Billy rincasi rimette tutto in ordine. È così che Tommy inizia ad interessarsi di varie serrature. Appena ne vede una nuova inizia a studiarla per capire come potrebbe aprirla. Un giorno va anche da un fabbro che gli presta un libro sui vari tipi di serrature al cilindro e sui diversi tipi di camere blindate. Tommy acquista anche delle manette solo col fine di riuscire a sfilarsene senza aprirle. Quel tempo le personalità di Billy si intrecciano. Ad esempio la prima volta che Allen si fa avanti è in un momento di pericolo. Allen cerca di dissuadere dei bulli di quartiere a gettarle in una bucca scavata per le fondamenta di una costruzione. Allen è l'artista del raggiro quindi prova a far cambiare idea a questi bulletti. Non vuole certo finire in un buco così profondo quindi usa la sua dota in manipolatoria per cercare di far cambiare idea a questi tizi. Purtroppo però non ce la fa. Billy o meglio Allen in questo momento viene quindi buttato nella fossa e gli vengono anche lanciati dei sassi. Allen pensa sia il quanto inutile rimanere lì a fare da bersaglio quindi scivola ed ecco che emerge Danny. Danny è la personalità spaventata dalle persone ma soprattutto dagli uomini. Appena emerge ovviamente è molto spaventato e cerca di uscire dalla buca ma si rende conto che quella buca è troppo ripida per lui. Poi si rende conto che con lui nella buca non ci sono altre persone quindi è alquanto tranquillo. Non ha paura e quindi si siede semplicemente ai gambe incrociate per terra. Ed ecco che a questo punto si danno il cambio e arriva Tommy. Tommy appena sente un sasso che gli raggiunge la schiena non capisce bene. Tommy guarda su, guarda dov'è e si rende conto che è necessario scappare. Tommy si rende conto che ha fatto pratica smontando serrature, sciogliendo nodi di corde. Certo ma quella è una fuga di tutt'altro genere. Serve forza, tanta forza. E così che entra in azione Regen, il guardiano dell'odio. L'uomo si alza in piedi, afferra dalla tasca un coltello a serramanico e si arrampica in poco tempo fino ad arrivare fuori dalla buca. E guarda quei bolletti insulti che peraltro se la sono presa con Billy che è molto ma molto più piccolo di loro. Ma i ragazzi guardano lui, guardano il coltello, guardano lui, guardano di nuovo il coltello e decidono di scappare a gambe levate. E quindi Regen tutto tranquillo se ne torna a casa. A questo punto entra in azione la madre di Billy che onestamente tutta questa situazione a me ha lasciato interdetta. Dorothy la madre di Billy era conoscenza del fatto che Billy era cambiata e si comportava spesso in modo strano. Ammette lei stessa. A volte Billy non era Billy, era cupo, come scollegato da se stesso. Gli dicevo qualcosa e lui non rispondeva. Come se fosse stato lontano e si stesse concentrando con lo sguardo perso nel vuoto. Spesso vagabondava per il centro. A volte riuscivano a prenderlo e a trattenerlo a scuola in modo che andasse a prenderlo. Altre volte semplicemente mi avvisavano che se ne era andato. Io quindi mi mettevo a cercarlo ovunque e lo trovavo sempre che vagabondava in centro. Ogni volta che lo ritrovavo lo riportavo a casa dicendogli di andare a sdraiarsi nel suo letto. Ma talvolta neanche sapeva dove fosse la sua camera. Dovevo accompagnarlo io. Al suo risveglio gli chiedevo sempre come va Billy? E lui mi guardava sempre con un'aria sconcertata chiedendomi sono stato a casa oggi? Ed io, come ero solito a fare, iniziavo a dirgli No Billy, non sei rimasto a casa. Non ti ricordi che sono venuta a prenderti? Eri a scuola. Hanno chiamato e quindi sono venuta a prenderti. Non ricordi di essere tornato a casa con me? Billy a questo punto con una ritontita rispondeva sempre Oh, sì, mi sa che non mi sento tanto bene oggi. Dorothy sostiene che in molti hanno cercato di dirle che suo figlio avesse dei problemi con le sostanze. Ma la donna sapeva perfettamente che suo figlio non prendeva nulla. A stento accettava di prendere delle medicine normalissime. Dorothy faceva una fatica tremenda anche solo per convincere Billy a prendere un'aspirina. Dorothy, sua madre, continua dicendo Molte volte tornava a casa da scuola in un vero e proprio stato di trans. Ma non mi parlava finché non aveva dormito un po'. Poi usciva dalla stanza ed ecco che lo ritrovavo, il mio Billy. Ho sempre detto a tutti, questo ragazzino ha bisogno d'aiuto. Il punto di vista di questa donna io posso anche comprenderlo. Non riesco a comprendere però. Come abbia potuto, dopo essersi resa conto della stranezza di suo figlio, non portarlo a nessuna visita medica. Almeno non di sua spontanea volontà. Possibile che il patrino glielo impedisse? Questi sono dubbi che rimangono. Ma non mi spiego come una donna possa farsi la sua vita, bella tranquilla, quando si rende conto che suo figlio va in giro in stato di trans. Poi ci sono anche dei casi in cui Billy non riconosce sua madre, non risponde a sua madre. È assurdo a mio parere che questa donna, questa madre, non si sia mobilitata per far notare i problemi del figlio, per dire fermamente che suo figlio aveva qualcosa che non andava, che non funzionava, c'era qualcosa che non le tornava. E probabilmente se la divisione della coscienza di Billy fosse stata studiata quando ancora era piccolo, avrebbero potuto a mio parere evitare parecchi problemi che sono arrivati inevitabilmente nella vita da adolescente e da adulto del ragazzo. Arthur nel frattempo fa la sua comparsa occasionale a scuola. Principalmente compare per correggere un insegnante di storia, specialmente quando il tema è quello dei rapporti tra l'Inghilterra e le colonie. Arthur passa la maggior parte del tempo a leggere nella libreria pubblica di Lancaster, ma è anche il primo a rendersi conto della presenza di altre personalità. La prima personalità con cui Arthur entra in contatto è Tommy. Poi Arthur scopre uno dopo l'altro tutti gli altri, 23 persone in tutto, compreso se stesso e le persone che all'esterno lo chiamano Billy. Col tempo emergono anche personalità negative di Billy e non sono affatto poche. Arthur nel tempo tenta di bloccarle, ma non sempre ci riesce. Arriviamo ad una mattina del 1970. Billy entra, come tutte le mattine, alla Lancaster High School. Ma le cose non vanno affatto bene. Billy odia gli insegnanti, odia i compagni, odia la scuola e dopo un'ennesima umiliazione nota che degli operai avevano lasciato aperta la porta del passaggio che conduce al petto. Billy a questo punto sa che fare. Sale sulle scale e dice dalla porta che dà sul tetto. Prende la rincorsa, sta davvero per lanciarsi dal tetto. Ma prima che raggiunga l'orlo dell'edificio, Rage lo scavamenta a terra. Da questo momento Billy viene addormentato. Arthur quindi avvisa tutte le personalità del fatto che Billy non deve mai prendere il controllo della coscienza. In nessuna circostanza. Mai. Arthur quindi dice alle varie personalità esattamente queste parole. Immaginate che tutti noi, tante persone, molte delle quali non avete incontrato, ci troviamo in una stanza buia. In metto a questa stanza sul pavimento c'è una chiazza di luce. Chiunque faccia un passo al centro, dentro la luce, esce sul posto. È quindi fuori, nel mondo reale, e possiede la coscienza. La persona che possiede la coscienza è quella che gli altri, quelli fuori, vedono, sentono e con cui interagiscono. Gli altri che rimangono sul posto possono però continuare a fare le solite cose, studiare, dormire, parlare o giocare, ma chi è fuori deve fare molta attenzione a non rivelare l'esistenza degli altri. Questo è un segreto di famiglia. Facciamo di nuovo un balzo in avanti. A questo punto Billy ha evitato la condanna per i reati commessi a danno delle tre studentesse universitarie, ma rimane la pena da scontare per le aggressioni nelle aree di servizio e la rapina alla farmacia, aggravata dalle clausole della libertà vigilata, ovvero quella di non detenere armi. Ebbene, Billy Milligan di armi ne aveva ben tre a casa sua. Alla luce dei nuovi eventi, gli avvocati di Milligan sperano di ottenere la non colpevolezza anche per quei vecchi reati. Si appellano quindi all'infermità mentale e chiedono il ritiro della dichiarazione di colpevolezza rilasciata da Billy durante il processo del 1975. La mozione però viene respinta. Billy quindi viene di nuovo colmato dalla tensione causata dall'attesa del processo. E peraltro ci sono anche due nuove accuse, ossia due tentate violenze a danno di due pazienti dell'ospedale di Athens. Poi ecco che arrivano anche i costanti tentativi della stampa di screditarlo. Tutte queste situazioni buttano Billy in un grave stato di depressione che lo fanno nuovamente dissociare. Billy tenta di togliersi la vita, non ce la fa, quindi tenta di fuggire dall'ospedale. A questo punto c'è una presa di coscienza. L'ospedale di Athens non era più in grado né di garantire né di gestire il suo trattenimento nella struttura. Quindi Billy il 4 ottobre del 1979 viene trasferito in un manicomio criminale di massima sicurezza, il Lima State Hospital for the Criminally Insane. In quest'altro ospedale psichiatrico a Billy viene diagnosticata una schizofrenia pseudopatica con episodi dissociativi, respingendo con forza la precedente diagnosi di personalità multipla. Ed ecco che tutto ritorna come prima, o meglio, Billy rincomincia a dissociarsi. Il maestro, la personalità più integrata di Billy, quella che ricorda più cose, sparisce. E Billy di nuovo viene tenuto addormentato dalle altre personalità perché continua ad essere fortemente depresso e quindi si affaccia nuovamente alla possibilità del suicidio. Durante il 1980 Billy, all'interno di quell'ospedale psichiatrico, viene nuovamente provocato e umiliato sia da pazienti che da infermieri. Inoltre viene anche picchiato brutalmente più volte. Nell'ottobre dello stesso anno, Lima da un manicomio criminale si trasforma in un carcere. Quindi Billy deve essere nuovamente trasferito al Dayton Forensic Center, un'altra struttura di massima sicurezza. Arriva il 22 settembre del 1981 e Billy viene nuovamente trasferito in un ennesimo manicomio criminale di massima sicurezza. Il Central Ohio Regional Forensic Unit a Columbus, dove rincomincia a ricevere cure per il suo disturbo dissociativo della personalità. Finalmente, oserei dire. Arriva il 15 aprile del 1982. Ormai giudicato innocuo per sé e per gli altri, Billy viene nuovamente trasferito all'ospedale psichiatrico di Athens. Lì, dietro varie restrizioni e sotto stretta supervisione, rincomincia a seguire la terapia del dottor Cole. Nel 1988, dopo altri due trasferimenti in altri due manicomi diversi, Billy Milligan ottiene il rilascio definitivo. Il 1 agosto del 1991, gli psichiatri e i tribunali dell'Ohio lo dichiarano guarito dalla sua malattia. Tutte le sue personalità si sono fuse, quindi Billy non è più costretto a supervisioni psichiatriche. Una volta libero, Billy si trasferisce in California, dove diventa proprietario di una casa di produzione cinematografica, ossia la Stormy Life Production. Nel 2012 gli viene diagnosticato un tipo di tumore molto aggressivo. Billy quindi viene ricoverato in una casa di cura a Columbus, dove viene a mancare il 12 dicembre del 2014, all'età di 59 anni. Detto questo, ragazzi, io spero di essermi fatta capire per questo video, perché ammetto che è stato molto difficile scriverlo, è stato parecchio complicato impostarlo, davvero davvero tanto. Quindi, insomma, spero abbiate capito le mie parole. In caso avete dei dubbi, potete tranquillamente farmi delle domande qui sotto nei commenti. Se inoltre ho tralasciato qualcosa, ho dimenticato di dire qualcosa, o ho sbagliato a dire qualcosa, siete liberissimi assolutamente di correggermi qui sotto nei commenti, ci mancherebbe altro. Io non sono una psicologa, però sono molto affascinata dalla psicologia, e mi ha molto affascinato la storia di Billy Milligan. Non riesco a capire effettivamente quando Billy viene fuso con tutte le sue personalità, perché ogni sua personalità aveva una dote. E quindi la mia domanda è ma Billy, in questo caso, ha assorbito anche le doti di tutte le sue personalità? Se magari voi sapete qualcosa e potete chiarirmi la situazione, sempre qui sotto nei commenti, a me fa molto piacere. Detto questo, ragazzi, ho finito di sprolocchiare in questo video, spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Io vi mando un bacione, mi raccomando, fate i bravi, e ricordate di continuare a mangiare le verdure tra un pandoro, un panettone, un quotecchino e una lenticchia. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, ciao